Il Consiglio Comunale di Battipaglia ha deciso di istituire una task force preposta a verificare le varie ipotesi di lavoro da sottoporre al Consiglio Comunale per fronteggiare la fase della ripartenza. La task force sarà composta dalla sindaca che la presiderà dai capigruppo consigliari e dai dirigenti dell'ente. La task force inoltre si insederà in seduta permanente presso il Comune di Battipaglia anche in modalità telematica e sarà finalizzata al monitoraggio continuo della situazione economico-sociale della città e della ricaduta sulla stessa dei provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale e all'ascolto delle categorie produttive cittadine.